ciao a tutti e ben ritrovati oggi parliamo di una cosa interessante per tutti cioè come avviare una vasca nuova allora ci sono moltissimi sistemi per avviare una vasca nuova prevedono vari settimane addirittura mesi di maturazione con l'inserimento di additivi batterici con sistemi tutti validi ma chiaramente possono apparentemente essere in contrasto a volte gli uni con gli altri io oggi volevo approfondire il sistema di avviamento di un acquario con il sistema sabbia cioè farvi capire il perché è possibile in alcune settimane avere già una vasca avviata con popolazione tutto dipende chiaramente da come vengono gestite le piante perché andremo a capire un po più nel dettaglio e chiedo scusa a tutti i chimici che mi guardano che sicuramente magari mi scolaceranno ma farò vedere in maniera estremamente semplice qual è l'azione dei vegetali sulla sulla neutralizzazione dei composti azotati in particolare dei nitriti e dell'ammoniaca così velenosi io ho fatto qualche tabella giusto per ripassare anche un po cos'è il ph cosa cos'è il ciclo dell'azoto molto molto in breve ma ci serve a capire una possibile alternativa allestimento nelle nostre vasche che ho utilizzato per vari anni forse decenni in tutte le vasche che ho allestito con ottimi risultati sono è un sistema che deriva da alcune tecniche di riproduzione che non prevedono ad esempio filtri che non prevedono maturazione eppure abbiamo pavanotti molto piccoli come neon brachidaneo e altre cose veramente microscopiche sensibilissime e dico sensibilissime molto più di altri pesci alla carica microbica e a carica degli inquinanti. Dato ciò andiamo a vedere insieme questa spiegazione che ribadisco è solo uno dei sistemi e non vuole assolutamente essere il sistema ma è giusto per far capire a tutti che diciamo le vie le vie per ottenere risultati sono a volte diverse e contrapposte. Vi lascio alla spiegazione spero che sia sufficientemente semplice e chiedo già scusa ad eventuali chimici ed esperti di chimica se magari c'è qualche imprecisione ma serve a far capire alla maggior parte delle persone l'importanza di avere piante vere in acquario fondamentale. Ci vediamo dopo. Allora per partire bene dobbiamo iniziare da capo cioè a capire che cosa è l'acqua H2O. Praticamente questa è una molecola che è un po capricciosa un po instabile scioglie tutto si mischia tutto chiaramente ribadisco il concetto che se mi sente qualche chimico mi mette in prigione però diciamo che queste cose servono a noi per capire meglio un po tutti i funzionamenti. Cosa ho fatto vedere qua? La scala del pH che va da 0 a 14 dove 7 abbiamo pH neutro. Cosa vuol dire pH neutro? Allora l'acqua è fatta appunto da due atomi di idrogeno e uno di ossigeno che però sono abbastanza instabili e hanno delle cariche elettriche che lasciano andare ioni. Gli ioni dell'acqua sono gli ioni H più e gli ioni OH meno che ogni tanto che ricongiungendosi poi formano ovviamente l'H2O. Allora in un pH acido quindi da 7 in giù quindi 6, 5 eccetera vediamo che gli ioni H più sono la maggioranza e quindi praticamente c'è pH acido. A pH neutro gli ioni H più e OH meno sono in ugual misura mentre invece una soluzione H lina o basica cioè dal 7, 7 e mezzo in su abbiamo una maggioranza di ioni OH meno. Diciamo che fino molto empiricamente a pH 6,5 abbiamo anche qualche ione OH meno. Se invece abbiamo un pH di 7,5 abbiamo anche qualche ione H più. Ma mano a mano che ci allontaniamo dalla neutralità gli ioni OH meno da una parte e gli ioni H più dall'altra saranno la maggioranza. Quindi pH basico avremo tantissimi ioni OH meno e nessuna presenza di ioni H più. Invece in pH acido avremo una maggiore presenza di ioni H più e sempre meno ioni OH meno addirittura chiaramente mano a mano che si acidifica l'acqua ha una totale assenza. Questo ci servirà a capire come intervenire nel nostro processo di avviamento della vasca. Questo in parole povere che cos'è l'acidità e l'alcalinità del pH. Ovviamente espresso in termini molto molto semplici ma tenete ben chiaro questa differenza degli ioni OH meno e gli ioni OH più perché ci servirà successivamente a capire come gestire al meglio l'avviamento della nostra vasca. Ed ora un veloce ripasso su quello che è il ciclo dell'azoto in acquario ma anche in natura. Sappiamo benissimo che qualunque forma vivente rilascia del materiale organico. Può essere avanzi di cibo, cacca, foglie morte o altra sostanza organica morta che poi va ad essere decomposta principalmente dagli organismi demolitori come miceti che sono funghi, protozoi e batteri. Da qua la sostanza organica rilascia proteine. A loro volta vengono trasformate in peptidi e in aminoacidi. Da qua gli aminoacidi rilasciano attraverso appunto la loro degradazione ammoniaca o ammonio che è semplicemente ammoniaca con un ioni idrogeno in più. L'ammoniaca è molto molto velenosa e anche in concentrazioni minime mentre invece l'ammonio è molto molto meno tossico. La presenza di ammoniaca o ammonio dipende principalmente dal valore pH e vedremo poi il perché. Quindi l'ammoniaca viene poi trasformata in nitriti ad opera dei batteri nitrosomonas, nitriti molto tossici anche loro e da qui ad opera dei batteri nitrobacter, nitrospire e altri cioppi batterici in nitrati che sono molto meno tossici e possono essere assorbiti dalle piante o comunque eliminati attraverso i cambi d'acqua. Diciamo che i nitrati è lo step ultimo della trasformazione dell'azoto, ma non è quello che ci interessa sapere è che le piante assorbono azoto principalmente e preferibilmente anche sotto forma di ammonio cioè NH4 che è quello che ci consente di capire come velocizzare e la nostra popolazione per quanto riguarda gli acquari. Ritornando a quello che abbiamo visto prima su quello che è il discorso pH abbiamo visto che se acido ci sono più ioni H+, e se al canino ci sono più ioni OH-. Cosa succede e perché è importante avere sempre in pH intorno a 7? Perché con pH fino a 7,5 l'ammoniaca NH3 è sotto forma di ammonio perché essendoci molti ioni H+, si attaccano alla molecola dell'ammoniaca che è NH3, quindi la molecola NH3 prende uno ione idrogeno e diventa NH4 fino a che abbiamo ioni H+, in acqua. Oltre il 7,5 la presenza degli ioni H+, è pressoché assente, quindi cosa succede? Un ione ammonio messo a pH superiore a 7,5 perde uno ione idrogeno, da NH4 divenne H3 e si trasforma in una cosa velenosissima che è ammoniaca pura, cioè NH3. Quindi, ricapitolando, in pH neutro, leggermente acido, non c'è ammoniaca e c'è ammonio, mentre invece pH superiore a 7 tutta la forma di ammoniaca è libera e quindi estremamente tossica. Mano a mano che si alza poi pH diventa sempre più tossica ovviamente. Quindi è importante avere la possibilità di avere ioni idrogeno liberi, H+, che si attacchino e rimangano attaccati all'ione ammonio per non farlo poi trasformare in ammoniaca. Detto ciò, vi ho osservato che l'ione ammonio è anche la forma più, diciamo, appetibile per le piante per prendere l'azoto. Lo fanno anche tramite i nitrati, gli NO3, ma è una seconda scelta. È un po' come per noi mangiare carne ben cotta e cucinata a dovere, c'è un bello spezzatino con le patate, piuttosto che invece la carne cruda. Cioè, dobbiamo sempre mangiare carne, ma un conto è mangiarla molto molto appetibile, altre invece perché dobbiamo mangiarla, perché ci serve. Quindi l'ammonio è importante in questa situazione perché è un ottimo nutrimento per le piante. Ed ora andiamo ad analizzare perché noi possiamo andare a bypassare la formazione negli NO2 quando abbiamo una fitta popolazione vegetale fino dai primi giorni in cui noi allestiamo una vasca. Addentriamoci in questo discorso. Una piccola precisazione per quanto riguarda la trasformazione di NH4 in NH3 allorquando vi sia, nella nostra vasca, un pH superiore a 7,5. Come abbiamo visto, oltre 7,5 non ci sono ioni H+, solo OH-, ed è questa carica totalmente negativa che strappa uno ione idrogeno, l'NH4, trasformandolo in NH3. Questa è la motivazione per così dire tecnica di ciò che avviene quando abbiamo un pH alcalino. Ed ora addentriamoci invece a capire come avviare una vasca in modo naturale, equilibrato e anche relativamente rapido. Eccoci arrivati all'epilogo e alle conclusioni di tutto il nostro discorso del perché e per come poter avviare una vasca in modo naturale, equilibrato e rapido. Allora, partendo a presupposto che l'ammonio che si forma nel momento in cui noi aggiungiamo del materiale organico, come per esempio le piante, all'acqua, è anche il cibo preferito delle piante stesse, da qui si ne deduce che per eliminarlo, visto che poi a cascata c'è la formazione dei nitriti che sono estremamente tossici, dobbiamo mettere tante piante. Ovviamente non parlo delle più robuste, Anubias, Microsorium, perché da un punto di visto di stabilizzatori biologici non servono a una beata mazza detto fra di noi, sono come le piante di plastica, ma piante rapide, Elodea, Egeria, Linnofila, Nigrofila, Ludwigia, tutte piante abbastanza rapide nella crescita, se non rapidissime, e che di conseguenza consumano molto velocemente l'eventuale ammodio che si presenta in acqua e in questo modo preveniamo a cascata anche la formazione degli NO2, un po' come succede nel marino con lo schiumatoio che togliendo le proteine ovviamente toglie a cascata anche tutto il resto quando funziona bene e quando noi facciamo funzionare bene le nostre piante è molto difficile che si possano formare nitriti, più probabile un po' di nitrati ma anche essi in maniera molto bassa. Probabilmente un po' di nitriti si formeranno anche ma rimangono estremamente bassi e irrilevabili. Per fare questo però dobbiamo avere tantissime piante, il 70-80% del fondo deve essere piantumato con le piante rapide che abbiamo detto prima, dobbiamo avere il giusto rapporto lumellitro dai 20 ai 30 lumellitro come minimo e se riusciamo a dare la CO2 diamo un ulteriore impulso alla crescita vegetale. Più la pianta cresce veloce, più la pianta cresce bene, meno azoto disponibile in acqua perché l'ammonio viene prelevato prima ancora di essere trasformato negli NO2. Per fare questo la pianta deve crescere bene e quindi fin da subito ci deve essere un'illuminazione adatta di circa 8 ore al giorno perché con meno di 6 ore ad esempio la pianta non riesce a fondosintetizzare in modo ottimale in particolare riuscendo a produrre la propria materia vivente attraverso tutti i nutrienti in acqua tra cui anche l'azoto ovviamente. Pertanto se noi vogliamo dare stabilità nel breve periodo alle nostre vasche dobbiamo piantumarle in modo fitto come ribadito 70-80% della superficie, fare in modo che le piante crescano bene dando i giusti nutrienti, dando la giusta luce e possibilmente dando l'anidride carbonica che è circa il 50% della sostanza secca di una pianta acquatica da qua la sua importanza. In sintesi estrema più piante veloci, meno azoto in acqua, meno NO2 e in questo modo possiamo popolare la nostra vasca già dalle prime settimane con un numero di pesci che sia relativamente minimo rispetto alla capacità totale. Diciamo che su 100 litri già nel momento in cui le piante emettono i primi germogli, quindi vuol dire che crescono, quindi vuol dire che mangiano e mangiano anche azoto, possiamo inserire 4-5 pesciolini, preferibilmente i corridoras perché respirano ossigeno atmosferico. Quindi gli innesti vanno fatti nel corso del tempo a non più di 4-5-6 soggetti la settimana tenendo monitorato i valori principali, pH, durezza e soprattutto l'eventuale possibile formazione di NO2 in questa fase iniziale. Ovviamente con gli NO2 dobbiamo stoppare l'inserimento dei pesci, verificare che le nostre piante crescano bene e ovviamente intervenire eventualmente con un cambio d'acqua, ma è una cosa abbastanza rara se si fanno le cose fatte bene. Ma mi raccomando, inserite i pesci pochi alla volta, anche se la vostra maturazione dura dei mesi, non mettete mai tutti i pesci messi insieme, non inseriteli mai insieme, anche perché ogni acquario ha una maturazione, diciamo, soggettiva, non è mai uguale per tutti. Ribadendo e concludendo, più piante meno armonio, 0 NO2 più vita. Questo è un modo naturale, equilibrato e veloce per avviare e allestire la vostra vasca. Abbiamo visto in queste tabelle quanto siano importanti i vegetali e riallacciandomi al discorso che avevo fatto in precedenza riguardo agli abanotti, è ovvio che gli abanotti sono la parte più sensibile e fragile di un pesce, quindi rispetto ad un adulto, come detto prima, sono estremamente più sensibili. Detto questo, ecco perché nelle vasche di riproduzione metto sovente della riccia a galleggiare, un po' per dare microrganismi che possano essere cibo per gli abanotti, e un po' giustamente per fare in modo che anche tramite una buona illuminazione, sia le piante che inserisco, sia le alghe, perché non dimentichiamo che anche le alghe contribuiscono a depurare l'acqua, quindi a noi non ci piacciono, ma ai pesci fanno bene, chiaramente se non sono in eccesso, quindi tutte le forme vegetali contribuiscono alla depurazione. Inoltre, le piante sulle loro superfici sono ricche di microrganismi, alcuni dei quali molto utili, quindi sono un ottimo inoculo batterico che coaduva e amplifica l'azione magari dei prodotti commerciali che inseriamo. Ovviamente in caso di vasche che non prevedano piante, conviene lasciare naturale la vasca, fare in modo che crescano delle alghe e utilizzare attivatori batterici. Non dimentichiamo inoltre che i batteri nitrificanti non sono in acqua, sono sulle superfici sommerse, quindi anche sulle foglie delle piante, perciò più piante abbiamo, più abbiamo superficie di attecchimento batterico, un po' come viene nel filtro, dove in poco spazio, grazie all'interstizio dei materiali filtranti, noi abbiamo una grande superficie di attecchimento batterico. I batteri nitrificanti non vivono in acqua, vivono sulle superfici, o meno la stragrande maggioranza di essi. Detto questo, io spero di essere stato sufficientemente chiaro, di aver dato la giusta importanza alle piante, che non dimentichiamo se vengono spinte al massimo con un buon rapporto, l'uno in litro, dell'anidride carbonica, veramente riusciamo a bypassare il picco degli NO2, cioè quindi non abbiamo NO2 in vasca e nel giro di due, tre, quattro settimane, possiamo già avere una vasca parzialmente popolata. Ribadisco che in qualunque modo voi facciate maturare l'acquario, i pesci vanno messi pochi esemplari per settimana per dare modo ad un ecosistema di stabilizzarsi intorno a quel carico organico. Questo è importante, inutile che fate maturare una vasca per sei mesi e poi ci buttate dentro 50 pesci in uno solo. I pesci vanno sempre messi in piccoli gruppi settimanali monitorando l'andamento della vasca. Con questo io spero di essere stato sufficientemente chiaro, di aver dato ultime informazioni, se avete domande chiedete. Spero che chi è chimico non fucili, ma veramente questo è il modo più semplice, veloce ed equilibrato di allestire un acquario. Impariamo dalla natura e d'altronde se ci si incavola che brucia l'Amazzonia un motivo ci sarà. Quindi se vi è piaciuto il video mettete like, iscrivetevi al canale perché ne vedremo sempre delle belle. Un caro saluto e un abbraccio a tutti voi dallo zio. Ciao, alla prossima! Grazie!